Il 16 ottobre 2014 la festa dei nonni della parrocchia di Santa Margherita organizzata dal parroco Don Sabatini. Ecco il 16 ottobre è la festa di San Gerardo quindi come popolo del sud siamo impegnati a vivere questo giorno ricordando questo nostro santo amante dei bambini, amante delle mamme in attesa e quindi che si è prodigato molto nelle nostre zone per la predicazione, per far conoscere l'amore di Dio per tutti in modo particolare per le mamme e i bimbi ma in questo mese come parrocchia siamo impegnati nel curare soprattutto l'attenzione ai nonni solitamente si è sempre festeggiato il loro giorno, punto e basta, si è creato un momento di festa da quest'anno abbiamo pensato, visto che ne parliamo spesso e spesso e volentieri, anche io ricordo i nonni nelle riflessioni, non so, capita all'omelia, capita in qualche incontro, ecco ci siamo prefissati col consiglio pastorale di vivere più appuntamenti per i nonni, per fare in modo che i nonni non siano solo oggetto di attenzione ma soprattutto siano protagonisti di momenti vissuti per loro e con loro. quindi il 16 ottobre daremo vita ad una corrida dove i nonni saranno protagonisti, domani sabato, stasera sabato ci sarà un momento di festa con il teatro dove tutti sono invitati come spettatori e non solo loro. Dove si svolgerà questa sera l'evento del teatro? Il teatro sarà all'auditorium San Giuseppe che abbiamo lì a Rione dei Gasperi vicino al campo di calcio e quindi ci saranno gli amici della parrocchia di San Gregorio VII in Battipaglia, gli amici dell'oratorio San Giuseppe che ci offriranno questa commedia, ci pensa mamma. Poi dal giorno 16 altri appuntamenti, il 16 sarà appunto questa corrida, di fatto inviteremo le persone a portare da casa fischietti, coperchi, cose, proprio perché deve essere un momento di gioia, di festa. Poi seguiranno altri appuntamenti con torneo di burraco e date che i nonni di oggi, grazie a Dio, si tengono attivi ci sono quelli che per motivi di dolori non possono muoversi con una certa abilità, diciamo, con una certa facilità ma ci sono tanti altri, anche novantenni che abbiamo, che si divertono col ballo, si divertono con la ginnastica, con altre cose per cui inventeremo anche altre serate, proprio perché i nonni ci sono cari e sono preziosi nella vita della famiglia. Bellissimo questo evento, quindi del 16 ottobre, i nonni dove devono recarsi e cosa devono fare per poter partecipare? Lo ricorderemo a messa stasera e domani, i nonni devono dare la loro adesione per partecipare alla corrida quindi se vogliono recitare una poesia, se vogliono cantare, perché alcuni di loro hanno una voce meravigliosa, no? A solo, in due, qualsiasi cosa loro desiderano fare poi ci saranno i bambini invece che faranno gli auguri ai nonni perché la festa non è circoscritta un giorno e poi basta dirlo qua, segnalarlo all'ufficio parrocchiale ma per i nonni, anche all'ultimo momento l'importante è che ci siano e ci saranno senz'altro perché ho sperimentato che quando si tratta di loro è sempre gradita qualsiasi iniziativa. Un invito dalla parrocchia di Santa Margherita a tutti i fedeli, a tutti i cittadini di Salerno il 16 ottobre, a che ora e dove? Alle ore 18, un orario accessibile ai nonni in maniera tale che poi nel giro di un paio d'ore si possa svolgere il tutto e possano tornare sereni a casa perché poi sai, i nonni c'è da prendere la pillola c'è da mangiare a orario, volergli bene significa rispettare pure le loro cose. Grazie.